Ciao ragazzi! Oggi voglio farvi vedere la mia collettura di giocattoli magichi che cambiano colore! I pesciolini, eh? Sì, mi ha già sentito che perché non resistevo, forse non cambiano colore. Facciamoli vedere, nostra amica, i pesciolini magici. I pesciolini, questi pesci potrebbero cambiare colore. Proviamo con lei. Ci vuole l'acqua calda, eh? Cambia colore? Sì, vedete? Cambia colore. Vai a vedere? Lei cambia colore, diventa bianca. È diventata bianca, questa bella pesciolina. Vai a vedere? Quello? Vediamo. Ah, che lì! Guarda che è diventata il muso, è rimasto rosa. Lei. Guarda il fondo, ma mi sa che non cambia colore. Sì, che cambia colore. Sta cambiando, fai giù. Vedi che è diventato bianco. Ma fanno vedere una alla volta. Se no, non si capisce. Guardate, ragazzi, sta mettendo. Questa è una pesciolina bellissima, è uno squalo. Sì, prova a vedere. Vediamola in mergo. Quella mi sa che si illumina al buio. Questa mi sa che sì, perché alcuni si illumina al buio e non cambiano colore. Sì. E la tarta rubina? Non sta cambiando colore. Rimane sempre così. Dai, ragazzi, che ne dite? Questa, fa vedere? No. È la tarta rubina. Non è meglio che lo farò io. Vediamo se cambia colore. Non è bello. Diventa bianco. Hai visto che è diventato bianco il suo guscio? Sì, ma... Guarda, mi sta calpettando il guscio bianco. Bellissimo. Poi proviamo... Questa qui, guarda. No, ve lo provarei, mi piace troppo. Cosa, il polipo? Vai, putta. Lo mettiamo nel nostro acquario magico. Da rosso. Vediamo cosa diventa. Arangione! Diventerà arangione, lo so. Ma rosso sta cambiando. Lo sapevo. Sta cambiando. Diventa quasi giallo. Adesso voglio aggiungere questo qui. Perché l'acqua non è che è bollente, è bollente. Adesso aggiungerà questo delfino. Cambia colore anche lui. Vediamo che colore diventerà. Vediamo. Cambia colore, per favore. No, mi sa che lui... Quanti sono tanti pesciolini, ma non tutti cambiano colore. Lo sa che si deciderà a cambiare. Questo cambia colore, secondo me. Sì, proviamo. Prova. Mi sa che si dominano al buio. Vai, giù! Questo è il mio colore, sì, sì. Sono quelli magici che si dominano al buio. Questo, vedete, da rosa, è diventato bianco, bianco. Quello è diventato bianco, guardate, ragazzi. Lì! Quello azzurro, questo blu. Guarda, come è il blu. Diventa azzurro. Diventa chiaro. Ma quale notte era? Dobbiamo provare lei. Guarda che diventa quasi chiaro, bianco, bianco. Guardate, questa qui voglio provare. Guarda, è bellissima. Guarda. Ma forse l'acqua non è abbastanza calda, non l'abbiamo messa bollente, bollente. Non è bollente, ci vuole potente. Per me, può darsi. No, quella per me non diventa però, sennò sarebbe gli altri diventano, ne hai visto. La tartarughina proviamo, guarda, da blu. Questa è... L'hai strappato dalle dita. Vediamo se cambia colore, per favore, cambi. Ma sì che cambia, cambia, sono sicura. Dai, cambia. Guarda. Speraci. Sì, lo sta cambiando, vedi, è diventata azzurra. Perfetto. Ma dobbiamo aggiungere... Sì, questo cambia colore, ragazzi. Vedete, è diventato bianco con il tempo. Però era questo. Non è un pesce, però... Ah, quelli cambiano colore, sì. Sì, questo cambia colore. È diventata bianca subito? Subito. Mettiamo lei. E le sirene? Non cambiano colore, ma sono sempre belle. Non cambiano colore le sirene, no? Vabbè, ma sono carine lo stesso. Abbiamo altre cose da aggiungere. Guardate quanti pesciolini. E questi cambiano colore? No, mi sa che si illuminano... Questi granchietti. Si illuminano al buio. Ah, questi sono quelli che si illuminano al buio. Ragazzi, è entrato un vero granchietto nella nostra vasca. Questo sono sicura che si illumina. Ragazzi. Vediamo, ragazzi. Cambia colore questo qui. Cambia. Sì, è che... Come una man... Ma insomma, non è che cambia tanto, eh. Non lo sa di no. Non abbiamo provato lei. Questo lo cambia, sono sicura. Camera man, camera man. Camera man, camera man. Questo si sta diventando più chiaro. Guardate, ragazzi. Vi spresso in faccia. Quello sbruffa, ma non cambia colore. Tutto lì. È bellissimo. Sì, squizzato. Vi bagno. Guarda questo pesciolino, sei bello. Questo è trapovello. È un pesce basaccione. Ce l'avevo a dire. C'era il corallo, non ce n'è uno. Pesce palla. Guardate com'è gremito il nostro acquario. Quanti pesciolini che ci sono. Hanno cambiato colore. Quelli sono diventati bianchi. che si vedono. Vi spussa. Vedi, guarda questo. Guarda questo che ha un musetto fuori. Ragazzi, vi spruzza in faccia. Non spruzzare al camera. È vietato spruzzare il cameraman. Non si spruzza questo qui. Guardate la razza. Buttiamo la razza. Ce n'è un'altra. La razza, anche quella. Qua c'è Nemo, guarda. C'è il pesciolino Nemo. Questi non cambiano colore. Ma un po' di questo così. Però sono belli. Bellissimi. E adesso, ragazzi, andiamo in nostro acquario e tutti i miei cionini sono felici e contenti. Ma che bello. Fate il bagnetto. Tutti assieme. E con una razzetta di numeri piantini. Gli dai l'ossigenatore, l'acqua fresca. Sai cos'è che non hai messo? Non hai messo questo? Il cavalluccio marino. Ma l'amore, il pino con l'acqua fresca. Ah, e poi dai l'esercito. Benissimo. Salutiamo i nostri pesciolini, i nostri amici. Ciao pesciolini. Ciao anche dallo squalo. Ciao ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. E mettete like, cliccate la campanina, iscrivetevi al canale per non parte di nulla dei Bimbi Gamer. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.